ciao ragazzi in tutorial di oggi andremo a fare questo bellissimo uovo di pasqua decorato a mano e se volete potete regalare pure acqua alle amiche o ai parenti ho preso questo uovo di polistirolo e ho decorato in questo modo usando i pezzi di carta poi se non trovate adesso siccome questi giorni è difficile trovare pure i materiali potete ordinario o su online se no potete tagliare ai 3 mm di 3 mm di di strisce sarà un po faticoso però vale veramente la pena perché è veramente bello a mi piace poi che ne pensate mi piace ho preso ho usato un po di tutti i colori perché i materiali stanno finendo poi devo pensare come si può acquistare e comunque andiamo adesso a vedere come si fa come si fa ciao 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 ciao